La ragazza ha rivelato la sua intenzione di lasciare ancora una volta il nostro paese La figlia di Albano infatti, alcune ore fa ha fatto la valigia ed è volta in house, ma per quale motivo? La quartogenita di Albano e Romina Power fa difficoltà a trovare lavoro come attrice, a domenica in Romina Cardisi aveva confessato di essersi separata dal fidanzato dopo qualche mese di convivenza, visto che la California non ha più un organo sentimentale per quale motivo ha lasciato ancora una volta l'Italia? Per raggiungere la madre, c'è da dire che poi la sorella amore di Cristella Iari non riesce a trovare lavoro, ricordiamo che nel salotto di Mara del mio ragione ha confessato la vita per far emergere il mondo dell'editazione per via del suo comune La stessa Romina, però, ha voluto rassicurare coloro che la seguono sui social affermando che sta solo trascorrendo i week-end da Vienna, infatti tra qualche giorno tornerà nella sua amata cellulina Sammar La stessa Romina, per secolica del mondo dell'editazione per la loro famiglia di